Mamma, son tanto felice che ha dovuto sostenere per difendermi dalla Gere ecco, finalmente una volta per tutte racconta quelle che sono, oltre che le sue ragioni delle evidenze a questo punto inconfutabili e io andrei per ordine il titolo non fortissimo quantomeno per riaprire la questione a un certo momento non se ne sente parlare più da qualche tempo ma è successo il finimondo è corretto dire così? esiste ed insiste in perterrita sì penso che qualcosa vada ancora detto anzi a mio parere è tutto ancora da aprire da riaprire oh, allora Colle Cesarano c'è una determina regionale datata 2004 quindi un pochettino di anni fa che sarebbe stata disattesa addirittura da chi? partirei con questa domanda per riaprire il capitolo cercando di senterizzare questa che ormai è una storia annosa però partiamo proprio da qui 2004 è stata disattesa quale determina? secondo lei è stata disattesa da parte di tutti i firmatari della determina stessa e quindi dalla casa di cura dall'ASL in questo caso l'ASL Roma G e dalla regione Lazio questa determina diventa interessante se la poi nel ragionamento che faremo se la intracciamo se la facciamo interagire in qualche maniera con gli accreditamenti definitivi perché il punto qual è? perché la struttura che è una struttura in convenzione potremmo dire comunque che è accreditata dalla regione dall'ente regionale per diciamo gestire questo servizio che poi è pubblico per gestire questo servizio ricordiamo che a Collegio Cesareano sono dei genti che malati psichiatrici poi alla fine ecco quindi una struttura RSA c'è psichiatria e RSA ecco lei che ruolo ricopriva ricordiamo anche questo all'interno della struttura direttore del personale per diversi anni poi diciamo così che si è sviluppata la storia in altra maniera ma per circa dieci anni insomma torniamo alla determina torniamo alla determina e per arrivare poi anche al a a spiegare qual è l'interesse della determina per sul rispetto all'accreditamento definitivo la determina è stata firmata dal precedente legale rappresentante dell'altra società ed è stata poi accettata e tutte le volte richiamata dalla regione e dall'Aslo in tutti gli atti che sono stati posti in essere l'oggetto della determina l'oggetto della determina era la riconversione della struttura e all'interno di quella determina la struttura la Colle Cesarano si impegnava a fare alcune cose tra queste c'era se mi consente gliela leggo lega lega così leggo il passo può subito capire la cosa di cura si impegna a garantire per tutta la fase della fase di transizione di non procedere a licenziamenti del personale dipendente mantenendo i livelli occupazionali e bla bla la fase di transizione sarebbe stata la fase che avrebbe dovuto accompagnare quindi da quel momento fino all'accreditamento definitivo quindi ricapitolando fino a quando non si otteneva l'accreditamento definitivo avrebbe dovuto rispettare la determina quindi mantenere il livello occupazionale il problema dove nasce e che cosa ci interessa adesso andare ad analizzare e vedere se è tutto in regola l'accreditamento definitivo perché se sono veri i miei sospetti e non solo i miei cioè che all'interno di quella struttura mancano qualcosa come 500 metri quadri quindi mancano gli spazi mancano i requisiti 500 metri quadri è un bel numero di metri quadri è quasi una palazzina era legata l'ampliamento della struttura ad un progetto ad un prost sull'asse di Bortino che tra l'altro è stata l'ultima notizia che ho è stata la concessione edilizia è stata fermata dal comune di Tivoli soltanto nel 2018 che dava un parere favorevole questi signori hanno ottenuto l'accreditamento definitivo con quindi la certificazione dell'asle degli ispettori dell'asle che per l'appunto attestava certificava verificava i requisiti strutturali della Colle Cesararo e vi assicuro che 200 posti letto lì comunque abbiamo fatto i conti sulla planimetria 200 posti letto non ci stanno non ci stanno quindi qualcosa va rivisto e qualcuno deve rispondere le testimoniano questo perché forse direttamente praticamente ha vissuto la struttura operativamente non solo ha detto il lavoro è chiaro oltre che documenti alla mano come porta qui in trasmissione ma dunque determina disattesa requisiti strutturali disattesi tra cui anche quello importantissimo che intima assolutamente di non licenziare nessuno eh sì quanto meno però ecco qui aprirei doveroso una parentesi lei che svolgeva questo importante incarico per quanti anni per quanto tempo all'interno della struttura io sono stata assunta nel 2003 fino al 2010 ecco qualche anno insomma lei è stata licenziata non lavora più lì tre volte licenziata e come mai visto che la termina era chiara eh infatti è quello che dovremmo cercare di capire qualcuno ce lo dovrà spiegare io però vorrei per spiegare bene la questione vorrei spostare l'attenzione sì perché in tutta la mia storia ogni volta l'attenzione era su di me sulla GERES e io penso che sia il tempo oh la GERES ricordiamo la GERES è la società che gestisce la struttura sanitaria la casa di cura e che succede alla Colle Cesarano S.P.A. certo quindi dicevo abbiamo sempre puntato i riflettori sulla GERES e sulla gestione della GERES io penso che sia arrivato il momento di di superare il primo livello e forse guardare altrove e di guardare altrove e di individuare i veri responsabili perché sicuramente a questo punto viene da chiedersi è chiaro che sia sempre la colpa all'imprenditore e agli imprenditori però diciamo posto che una struttura privata a un certo momento è lì per fare il suo mestiere dunque anche produrre un utile probabilmente questo è legittimo allora volendo spostare io non sto dicendo che abbiano fatto si siano comportati in maniera assolutamente trasparente qualche dubbio io ce l'ho ma la questione vuole comunque spostare perché voglio spostare l'attenzione perché tenendo l'attenzione sul GERES non ne veniamo fuori non ne verremo fuori io ho necessità e penso di avere anche il diritto di ricevere risposte dalla regione Lazio e dalla ASL Roma G e andiamo per ordine e andiamo per ordine partendo proprio dalla ASL partendo dall'ASL e adesso a titolo così emblematico ma davvero perché ci sono pochi pochi esempi che posso fare ma messi assieme unendo i punti della condotta dell'ASL qualche interrogazione a uno se la pone qualche interrogativo te lo poni qualche qualche no dubbio lo possiamo sollevare e quindi voglio partire per per ordine partendo dal 2003 io sono testimone di quello che l'ASL ha posto in essere nei confronti di quella struttura dal 2003 vengo assunta nel maggio del 2003 dopo qualche mese ma veramente una manciata di mesi cominciano problemi di liquidità la Colle Cesare non paga più gli stipendi è vero che si resta i 10 mesi quasi circa 10 mesi senza per CP e tutti i dipendenti quindi eravamo circa 170 insomma e di che volume d'affari parliamo insomma allora la questione il contendere della faccenda erano circa 2 milioni e mezzo io non entro nel merito non voglio sapere se fosse giusto o se fosse sbagliato la richiesta di 2 milioni e mezzo dell'ASL nei confronti della Colle Cesare io registro semplicemente che soltanto nel 2010 vengo a sapere la responsabilità cioè il motivo per il quale la sottoscritta e tutti i dipendenti sono rimasti 10 mesi senza stipendio è da imputare all'ASL Roma G e questo lo leggo se mi consente lo leggo proprio dalla sentenza del Tribunale di Regoli su alcune denunce che i dipendenti avevano fatto nei confronti di Casati la sentenza la 692 del 2010 e recita le risultanze dibattimentali hanno dimostrato come la gravissima situazione di crisi economica e di liquidità dell'azienda sia stata la causa unica alla quale riferire i fatti denunciati i documenti acquisiti hanno inoltre riscontrato l'assoluta imprevedibilità del comportamento tenuto dall'ASL con la interruzione dei pagamenti dovuti quasi senza alcun preavviso la conseguente mancanza di liquidità da parte della società con impossibilità di corrispondere ai dipendenti la loro retribuzione in ogni sua parte e i dipendenti sono stati 10 mesi senza percepire 10 mesi senza perché l'ASL Roma G aveva deciso di non consentire alla società un piano di rientro un piano di ammortamento qualcosa che desse la possibilità di restituire quei soldi ripeto senza entrare nel merito restituire quei soldi un po' per volta e quindi riuscire a sostenere sia l'attività della società sia anche adempiere alla restituzione del dovuto come è andata adesso proprio per la cosa ed è andata che quella società è andata a carte 48 si dice così quella società purtroppo il precedente datore di lavoro è andata ha dovuto lasciare lasciare la struttura diciamo così è stata messa in liquidazione la società è finita in liquidazione questo è un primo dito che la dottoressa Lucia Tertibolese in questo caso punta direttamente contro l'ASL e lo fa dal giornale e lo fa qui e lo faccio qui e la cosa che voglio sottolineare è che a fronte di questo atteggiamento ne sono seguiti altri che poco avevano a che vedere con questo tipo di atteggiamento quindi quando sono arrivati i signori della GERES l'ASL diciamo così ha vissuto questa quiete dopo la tempesta tant'è che cercando questi documenti ho scoperto neanche a farlo apposta un documento a firma di Vladimir Perretta che dice che per controllare la sicurezza dei lavoratori hanno fatto sopralluoghi oltre a settembre 2004 che era il momento in cui arrivavano quelli della GERES poi l'hanno rifatto a dicembre 2007 ad aprile 2009 quindi facevano interventi per controllare la sicurezza dei lavoratori all'interno di una struttura che veniva da una situazione abbastanza pesante ogni due anni così con molta serenità ma questo è indicativo non può non significare niente però a me è venuto all'occhio e l'ho registrata quelle che sono le tappe almeno secondo lei salienti di tutta l'intera vicenda e per come l'avete vissuta voi e per come l'ho vissuta io e dico e vado avanti visto che se posso quindi abbiamo già detto all'inizio che i signori della GERES nel momento in cui sono arrivati hanno dovuto si sono obbligati in qualche maniera quindi hanno accettato anche la famosa determina che aveva firmato un anno prima l'ingegnere Aurelio Casati bene abbiamo detto che l'atteggiamento dell'ASLA era molto serena nel 2006 l'ASLA manda una missiva alla Colle Cesarano alla GERES gli ricorda l'attuazione delle intese di riconversione quindi ricorda di nuovo quanto previsto nella determina e addirittura pensa o trova superfluo dice è superfluo rammentare che per tutta la fase di transizione con questa struttura sia impegnata di non procedere a licenziamenti del personale dipendente e adeguarsi poi a requisiti organizzativi strutturali e tecnici che verranno emanati in attuazione dalla legge regionale 4 del 2003 calca sulla vecchia determina ancora una volta questa si riporta alla determina richiama la determina manda questa missiva della serie ricordati che c'è la determina che va attuata bene e voglio arrivare quindi abbiamo detto che l'ASL faceva accessi molto tranquilli da quello che ho visto arriviamo ad un momento cruciale che è la prima un'interrogazione poi ne seguiranno tantissime ma la prima interrogazione regionale che gemella segue al senato anche questa ho preso alcuni e leggerò alcuni punti che fanno capire che roba che l'ASL non se ne è accorta allora questa interrogazione dice qualcuno non si è accorto viene fatta un'interrogazione leggo alcuni punti ma giusto sempre per sono paesi sono sui documenti quindi è stato chiuso il centro di riabilitazione costringendo riabilitatori a fare attività dove mancano gli spazi idonei tant'è che gli ospiti vengono trattenuti nei refettori dei vari reparti con conseguente scadimento delle condizioni igieniche nel momento della consumazione dei pasti l'ASL non se ne è accorto nonostante la costante segnalazione dell'infermiere di turno sui giornali di reparto passano giorni e giorni senza poter somministrare farmaci specifici psichiatrici e non quali le eponex e ne dice un po' l'ASL non se ne accorge no ce lo spiegheremo un attimo dottoressa durante no sono sono ma sono farmaci psichiatrici e qualcuno ovviamente ma questa pensa che penso che queste notizie chi ha fatto l'interrogazione l'abbia ricevuta da parte di chi lavorava nei reparti comunque è successo davvero eh se sta sull'interrogazione ecco allora aspetti perché voglio far capire al pubblico voglio finire non è finita qui durante tutta l'estate il personale della casa di cura che ha visto l'arbitrario intervento della direzione sanitaria che promuoveva senza titolo 20 OTA a mansioni di OSS è stato costretto a svolgere mansioni diverse dalle figure professionali ricoperte più precisamente la proprietà è riuscita ad economizzare ovviamente a discapito dell'assistenza impiegando il personale OSS facente funzione quindi OTA a copertura dei turni degli infermieri generici e quest'ultima a copertura dei turni degli infermieri professionali e bla bla anche di questo l'ASL non se ne accorge ora sono fatti vecchi io sto facendo un escurso su tutto quello che è successo ma gravi però gravi è grave il fatto che non se ne fossero accorti che non se ne accorgessero quelli dell'ASL questa è la cosa grave e che cosa succede a fronte di questo dopo che è uscita questa interrogazione uno si aspetta questa è uscita ve lo dico subito penso a fine ci dica la data a fine non vediamo 10 dicembre 2009 il 10 dicembre è uscita questa interrogazione a fronte di questo uno si aspetta vabbè allora se stanno se manca personale succedono tutte queste cose aumenteranno assumeranno personale invece che succede tre mesi dopo il 10 marzo aprono una procedura di licenziamento collettivo per 29 unità per 29 dipendenti come se nulla fosse come se nulla fosse e è ancora il momento in cui quella famosa determina quella famosa determina veniva richiamata ma non nessuno se l'andava a leggere che succede il 10 marzo viene aperta la procedura di licenziamento tutta la fase io mi seguo tutta la fase sia quella aziendale quindi sindacale che quella amministrativa in sede regionale il giorno in cui si doveva chiudere la procedura di licenziamento che poi è stata trasformata in cassa integrazione l'ASL l'ASL porta in regione una missiva anche qua una dichiarazione che cosa c'era scritto è quasi a prendere in giro ricorda i riferimenti normativi applicabili per la determinazione degli standard qualitativi e quantitativi vanno distinti come di seguito specificato area clinica salute mentale 120 posti letto determinazione D0 122 del 21 gennaio 2004 sempre quella sempre quella la richiamano la richiamano proprio intanto che stavano abbassando il livello occupazionale e inoltre dicono anche un'altra cosa Perini che richiama quanto aveva scritto l'anno precedente il dottor PL Zampini allora dice che la presenza di 148 dipendenti e servizi aggiuntivi e complementari erano necessari per mantenere per rispettare i livelli assistenziali attualmente esistenti per no? quindi la conferma la permanenza dei requisiti è chiaro bene nessuno si accorge che sulla pianta organica non riescono neanche evidentemente a contare fino a 148 perché sulla pianta organica nel momento in cui vengono messi in cassa integrazione oltre 20 persone in pianta organica ce ne erano 129 ben lontani da 148 io provo in quella sì in quella data lei personalmente io personalmente provo a sollevare non soltanto l'incongruenza di una struttura che pareva da quello che risultava anche dall'interrogazione che mancasse fosse carente di personale di assistenza e addirittura invece stavano aprendo una procedura per abbassarlo oltre a quello cerco di come uno stessa di richiamare la famosa determina richiamare al rispetto di quella determina e quindi scrivo proprio riprendo il pezzo dove dico che bisogna garantire per tutta la fase di transizione a non procedere a licenziamenti la regione nella persona di Agostino Loprevite che era il funzionario responsabile del procedimento quindi quello che stava siglando la prima procedura mi allontana ce l'ho ma questo poi sono riuscita a farglielo almeno mettere nero su bianco perché quando io insisto sulle motivazioni per le quali non si poteva procedere a quella cassa integrazione vengo allontanata dall'ufficio e lui poi insomma quantomeno ha avuto diciamo così lo scrupolo di metterlo nero su bianco e dice il sottoscritto Loprevite Agostino responsabile del procedimento non ha consentito alla dottoressa Tertibolese Lucia di partecipare alla conclusione dell'avvertenza e conseguentemente deporre dichiarazioni avverbale o documenti scritti lui dice in quanto non riconosciuta come interlocutrice ora io dico quando qualcuno ti fa ti porta e perché mai non sarebbe stata riconosciuta non avrebbe avuto i requisiti ecco quali tipo di requisiti guardi se io le rispondo così se io avessi tenuto la bocca chiusa potevo stare lì fino a Natale nessuno mi avrebbe allontanato il problema era che quello che stavo dicendo non gli andava bene perché comunque quella procedura andava chiusa andava portata a termine quindi chi racconta perché tra l'altro dico non è che l'ho detto eravamo soltanto io e lo previte quando io ho sollevato questa questione cioè non ho anche tutti i rappresentanti sindacali nessuno ha sollevato la faccenda 29 persone sono venite in cassa integrazione punto questo con la regione è l'ASL ecco perché dico dobbiamo spostare l'attenzione dalla GERES all'ASL e alla regione probabilmente le responsabilità sono a questo punto di carattere prettamente istituzionale che vanno cercate lì assolutamente lì ecco questo è il punto di vista della dottoressa Lucia Tertibolese oltre che la sua impostazione che in qualche modo vorrebbe riaprire una richiesta in questi termini puntando il dito contro l'amministrazione nella speranza di far luce il più possibile su tanti ed altri documenti perché lei chiaramente come ha sottolineato in più occasioni è chiaro che ha dei punti di forza probabilmente nella sua inchiesta già fatta oggi però non sono tutti i punti come la stessa sottolinea c'è dell'altro c'è dell'altro dove può essere rinvenuto allora intanto c'è dell'altro che ci aiuterà sicuramente a capire se la condotta dell'ASL è stata sempre trasparente ecco perché vorrei finire e poi arriviamo anche a discutere su tutto il resto dopo la prima procedura di licenziamento collettivo che poi come dicevo si è trasformata in cassa integrazione nel 2012 il 2012 è un anno da tenere ben presente perché succede un sacco di cose nel 2012 nel 2012 io faccio una richiesta di accesso agli atti sulla pianta organica e scopro che questa pianta organica è quella intanto che è stata utilizzata quando è partita la prima procedura di licenziamento ma secondo è la stessa che è stata utilizzata per ottenere l'accreditamento per avere il parere favorevole dell'ASL da un punto di vista organizzativo allora per ottenere l'accreditamento definitivo l'ASL deve accertarsi e dichiarare quindi verificare e dichiarare che la struttura ha i requisiti minimi richiesti da un punto di vista organizzativo tecnologico strutturale quindi sia idonea sia idonea a meno che poi magari c'è anche la possibilità che trovano qualcosa che vada aggiustato e quindi magari danno il parere favorevole con alcune prescrizioni non è il caso nostro questi hanno ottenuto l'accreditamento definitivo parere favorevole su tutti i criteri stabiliti fra le stranezze che è quella della struttura che vediamo che è carente di parecchi metri metri quadri l'altra stranezza è il fatto che la pianta organica che è servita per certificare i requisiti organizzativi necessari per l'ottenimento dell'accreditamento definitivo un terzo di quella gente che stava sulla pianta organica è stata dopo l'ottenimento dell'accreditamento definitivo è stata licenziata quindi o non avevi criteri prima per ottenere l'accreditamento definitivo o lo perdi subito dopo il licenziamento ma l'ASL non se ne accorge e non è l'unica cosa sempre nel 2012 faccio un'altra richiesta di accesso agli atti e mi faccio consegnare dall'ASL le fatture dei precedenti 4 anni degli ultimi 4 anni sviluppati i conti sulle fatture della GERES viene fuori che la GERES ha fatturato 3 milioni e mezzo di euro o extra accordi regionali quindi le fatturazioni per 3 milioni e mezzo extra accordi regionali quando io ho sollevato questa cosa perché dopo che è stato fatto il conto sono andata sia all'ASL che è mandato emissive alla regione chiedendo come fosse possibile ad oggi nessuno mi ha risposto sono sicura che l'abbiano sistemata questa faccenda che sia assolutamente lecita e tranquilla la questione però che mi chiedo è come è stato possibile che qualche anno prima per 2 milioni e mezzo ci avete lasciato 10 mesi senza stipendio e dopo per 3 milioni e mezzo io non sono neanche riuscita a capire come è stato possibile magari c'è una magari c'è una convenzione può essere magari c'è una convenzione tra l'ASL e la GERES allora dottoressa però è anche vero che qui che lei segnala è chiaro che fa offre rende un servizio pubblico importantissimo in questo momento alla collettività però è chiaro pure che come già almeno il giornale Paese Roma si è premurato di invitare più di uno a livello di esponenti politici di responsabili istituzionali e direttamente responsabili è diventata struttura ma nonché anche vecchie figure come l'ingegner Casati che però appunto quindi la precedente gestione diciamo che però appunto non ha aderito all'invito insieme a altre personalità politiche ci auguriamo di vederli qui però quanto prima perché Paese Roma.it riapre il caso e lo fa diciamo con circospezione e con lungimiranza in quanto si vorrà in qualche maniera approfondirla tutta la questione mi piacerebbe molto si vorrà approfondirla tutta ecco quindi prego per capire almeno intanto ad oggi come si è chiusa non si è chiusa la faccenda ovviamente ad oggi almeno non si è chiusa con le risposte non si è chiusa con risposte si è chiusa con dati di fatto che l'ASL e la regione hanno firmato e hanno comunque ottenuto questi della GERES i loro accreditamenti definitivi tutto il resto sembra non interessare Zingaretti Nicola Zingaretti è stato dalla sottoscritta contattata sono sette anni che io aspetto risposte da Nicola Zingaretti e in virtù proprio dell'apertura che ha utilizzato lei dei 26 procedimenti che ho dovuto affrontare 26 giudizi 26 giudizi tra penale e civile sostenuti con uno sforzo economico fisico psicologico anche di vita personale che ovviamente sono dieci anni che va avanti questa faccenda io sono un'appassionata della Colle Cesarano a questo punto è una vera e propria cultrice della materia sono una vera e propria cultrice della materia vorrei semplicemente adesso chiudo poi giuro mi taccio e mi faccio vorrei chiudere su questa cosa nel 2012 abbiamo detto che era l'anno cruciale nel 2012 ci sono state le verifiche fatte dagli ispettori dell'ASL per certificare i requisiti strutturali organizzativi e tecnologici della struttura e quindi procedere con l'ottenimento dell'accreditamento definitivo cosa ne è emerso? il parere favolevole nessuna prescrizione per loro andava tutto assolutamente bene sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista organizzativo quindi personale tutto il resto che da un punto di vista tecnologico tant'è vero che la struttura è stata accreditata quando? accreditata questo nel 2013 le ispezioni sono del 2012 l'accreditamento è stato nel 2013 il primo e poi è stato rinnovato nel 2018 nel mezzo a prova del fatto che non ci stiamo sognando cose c'è stata una puntata un meraviglioso servizio sulla Colle Cesarano nella puntata di presa diretta del 13 marzo 2017 io invito davvero ad andarseli a rivedere ciao maschio e c'è un servizio sulla Colle Cesarano curato da Giulia Bosetti che è stata bravissima e lì si vedono con occhio quello che è stato sollevato da forse una decina 15 interrogazioni regionali parlamentari alle quali sono assolutamente non c'è mai stata una risposta completamente tutte disattese e lì tra le altre cose ci sono due dati importantissimi la prima è che si vede che la strutturalmente non c'è la possibilità in alcune in alcune stanze di aprire la porta e quindi lì questo ha conferma del fatto che i metri quadri non ci stanno per 200 posti letto ma poi c'è un'altra cosa e questo voglio chiudere il ragionamento sulla sulla responsabilità dell'ASL viene intervistato dalla Bosetti Ragneri De Marea che risponde alle domande un parlamentare ed è stato un consulente tecnico della commissione parlamentare di inchiesta per gli errori in sanità e lui dice in quella puntata nel suo intervento dice che nel 2012 hanno fatto sopralluoghi quindi ispezione all'interno della struttura e con un grande candore quasi disarmante lui dice che quella struttura se avessero dovuto fare il dovere loro avrebbero dovuto chiuderla quella struttura e dice dichiarazioni si sono dichiarazioni se andiamo a vedere di nuovo voglio soltanto concludere mi consenta il fatto del 2012 che Ragneri De Marea sostiene che la struttura andava chiusa e nel 2012 l'ASL ha rilasciato l'accertamento dei requisiti per l'accreditamento punto mi taccio non sì no era solo per aggiungere il fatto che tutte le opinioni adesso narrate anche da autorevoli interlocutori aventi merito nel poter parlare della vicenda per un ruolo o per un altro però rimangono sempre nel campo delle opinioni ancora tutto tutto ciò voglio dire è suffragato come detto più volte a lei da numerosissima documentazione molto folta già ma forse non completa ancora ecco perché manca questa ecco cosa manca manca adesso tutte perché io ho visto diciamo così fare un un egregio sul lavoro sul lavoro delle tre carte sulla sulla questione dei requisiti organizzativi quindi non riuscivamo mai a capire questa gente se c'era su Fuget cosa manca e cosa a meno che non lo so non si inventano con la bacchetta magica qualcosa non c'è la possibilità a mio parere di poter giustificare l'accreditamento definitivo rispetto ai requisiti strutturali non c'è possibilità perché in quella struttura in quegli edifici non ci stanno 200 posti letto stando ai metri quadri richiesti pro capite dai requisiti minimi perché c'è un criterio come si fa a dire se i pazienti hanno lo spazio previsto dai requisiti minimi della normativa facendo lo sviluppo dei metri quadri pro capite con i metri quadri degli edifici viene fuori che 200 posti letto non ci stanno questo è almeno quanto si evince dalla planimetria questo è da quanto si evince dalla planimetria è chiaro che se fosse poi vero e dimostrato tutto questo beh sarebbe molto grave ammettere quantomeno che la struttura non è accreditata bene mi passi il giudizio di valore diciamo così siamo stati un po' leggeri ma tutto ciò dovrà essere appurato ci auguriamo almeno dalle istituzioni posso dire soltanto l'ultima cosa è che intanto ho provveduto ad agire in maniera stragiudiziale sollevando questa questione anche alla regione è ovvio che se poi risposte non ce le avrò in maniera stragiudiziale vorrà dire che poi ce le facciamo dire davanti ai giudici insomma però sicuramente questo lo posso dire qualcuno risponderà su questa cosa perché penso che non soltanto io ma tutti quelli che sono stati vittima di questo di questo scempio meritiamo le risposte quindi in qualunque sede io me lo farò dire arriveremo alla verità il messaggio è davvero chiaro grazie alla dottoressa Lucia Tertibolese paeseroma.it videorazio24.it nel cuore d'Italia grazie a tutti